La Ternana si è presto a ospitare tra le mura dello stadio libero liberati l'avellino di mister Braia. Per le fere, la gara ottenendo un risultato positivo assicurerebbe matematicamente la Serie B alla squadra di Lucarelli, da mesi in corso a solitaria per approdare il campionato cadetto. Il Viminale intanto ha sottognato che non dovranno esserci festeggiamenti, mettendo in strada molte forze all'ordine per garantire i controlli. Il dato epidemiologico non è da sottovalutare e il Ministero degli Interni non vuole che la situazione possa sfuggire di mano. Per provare a creare un clima di festa, le autorità hanno autorizzato l'esposizione di striscioni all'interno dello stadio. In tal senso, oggi stessi, i vari club e i tifosi potranno collocare i propri striscioni e quant'altro sugli spalti. Il ritiro di tali materiali invece dovrà avvenire da martedì prossimo, cosicché le operazioni di allestimento e di recupero degli stessi avverranno al di fuori del cosiddetto periodo di zona rossa, coincidente in tutta Italia con le festività pasquali. A contempo, oggi pomeriggio, la squadra di Lucarelli svolgerà l'allenamento di rifinitura in vista della gara di domani programmata per le ore 15. Il tecnico dovrebbe confermare 4-2-3-1 con gli annarilli tra i pali. Celli, Contec, sua guerra e difendi a formare la linea difensiva. A formare la linea di mediana invece ci saranno Paghera e Proietti. Sulla trequarte ci saranno Furlan, Faretti e Peralta, a sostegno dell'unico riferimento offensivo, Rajcevic.